Siamo arrivati in un'altra parte di un'altra parte. fanno scuriare tranquillamente quando si ferma quando si ferma la piscina si si no no e tira madonna amare quasi l'obiettivo è che lei deve stare e lei se ne va fin quando se ne va la piscina adesso l'avevo problemi non ce ne si bomba ti ho detto di canna andiamo nervi saldi tranquillo forse bravo al pion siamo al pion ora questo è un momento e vada facci farci bravi ora ora vado a 10 e vado a salire piano piano vado a salire piano piano quindi può sempre ripartire ce l'abbiamo e la minchia quanto tira minchia parepepe la città wow bello e non abbiamo finito perchè c'erano diversi è un'altra cosa stiamo cercando quella scarica di adrenalina pazzesca bello 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 eeeh uff uff ora con calma ok siamo fuori ormai ok come salve come salve pesci pesciolino non è tanto pesciolino non è tanto pesciolino non è tanto pesciolino non è tanto pesciolino caro mio abbiamo abbiamo non la faccio uscire la faccio uscire ecce ecce vai ora voleva essere voleva ok oggi la giornata è stata abbastanza positiva dovevamo fare 3 abbiamo fatto solo doppietta ci sarà per la prossima volta si ritorna a casa e vai la prossima